Geri Scotti a Tussi Q e Vales, addio vicino a caduta libera Geri Scotti a Tussi Q e Vales, addio vicino a caduta libera A lasciare caduta libera? Tussi Q e Vales è pronto a tornare in tv proprio questa sera Il talent show d'eccezione di Canale 5 con la giuria più esplosiva di sempre andrà incontro a una sfida Auditel piuttosto semplice per essere la sua prima sfida della stagione televisiva 2017-18 Maria De Filippi, Geri Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Mara Veni e sono pronti a far divertire il pubblico del sabato sera che, dopo una lunga settimana di lavoro, vuole rilassarsi di fronte al piccolo schermo esplodendo ogni tanto in una fragorosa risata Già dai promo mandati in onda nel corso di queste ultime settimane si può vedere come tra i giudici non si sia perso il loro magico feeling che fa sì che Tussi Q e Vales sia un programma che vale assolutamente la pena di vedere Geri Scotti, fin dalla prima edizione di Italia's Got Talent in onda sul quinto canale, è sempre stato la componente emozionale della giuria, colui che si emoziona durante le esibizioni più forti, a cui scende una lacrima nel caso in cui senta una storia commovente pronunciata dalla bocca del talento di turno Ed è sempre lui, il conduttore di caduta libera, che non litiga mai con gli altri giurati, ma che anzi mette pace qua e là o simpatica zizzania quando si tratta di stuzzicare il giudice popolare Mara Veniè Presto arriverà su canale 5 Tewall, il nuovo quiz della rete Ammiraglia. Il conduttore dirà addio definitivo all'amato gioco delle botole? Geri Scotti da caduta libera a Tussi Q e Vales, il nuovo programma Caduta libera tornerà il prossimo anno? Per ora non vi è alcuna conferma visto che Geri Scotti dal tardo autunno in poi, fino a quando non tornerà il quiz, varietà avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, condurrà a The Wall che strizzerà l'occhio allo storico programma Ok, il prezzo è giusto Dalle anticipazioni si sa che dovrebbe debuttare in prima serata su canale 5 nel tardo autunno . .